Musica Ciao, mi chiamo Cayvan Zarinè. La Zarinè Tappeti e Tessuti nasce nel 1956, ma in questa sede di via dei prati fiscali dal 1976. Questa azienda, la Zarinè Tappeti, nasce dall'idea imprenditoriale di mio padre e mia madre. E da circa cinque anni io mi occupo dell'evoluzione del brand, cercando di mantenere la tradizione, ma con un'innovazione forte e al passo coi tempi. Tanti clienti mi chiedono come posso mantenere il tappeto. Io gli rispondo, non nascondere la polvere sotto al tappeto, lascia fare a noi il lavoro sporco. Noi da più di quarant'anni ci occupiamo di lavaggio e restauro. Abbiamo otto restauratori, ognuno specializzato in un tipo di tappeto diverso, dal tappeto antico al tappeto moderno. Poi abbiamo anche il nolleggio. Abbiamo affittato i tappeti più grandi film italiani. Ultimamente abbiamo girato su Burra e Gomorra. Ho avuto la fortuna anche di arredare la casa di Bernardo Bertolucci. Facciamo i tappeti su misura. Realizziamo il tappeto che hai in testa tu. Puoi scegliere da noi le lane, vedere il render del tappeto e quindi realizzeremo il tappeto dei tuoi sogni. Grazie e ti aspetto da Farsha Shabbati. Vi aspettiamo nel nostro showroom di Via dei Prati Fiscali 98. Per qualsiasi informazione visitate il nostro sito zarine.it